è tornata ad asti la 24 per un'ora con la sua 46esima edizione che si è fatta attendere per ben tre anni a causa della pandemia ma adesso il 25 26 marzo 2023 è ricominciata una due giorni di festa di sport di tanta voglia di stare insieme che cos'è la 24 per un'ora e che cos'è il suo ritorno ce lo raccontano i protagonisti durante il ritorno della 24 per un'ora la normalità che bello finalmente tre parole era ora è bello che ci sia 5 4 3 2 1 finalmente è tornata la 24 per un'ora finalmente il palazzetto si rianima per tutto un weekend giorno e notte pieno di gente che corre pieno di bambini che corrono ciao è un ringraziamento particolare alla vittoria alfieri che ha fatto tutto quello che poteva fare è una bella festa per tutti benissimo benissimo contento soddisfatto finalmente è tornata la 24 erano 4 anni che le tentavamo con ansia grazie a vittorio alfieri per averci dato questa bella gara grazie a tutti